Buongiorno cari fratelli e sorelle. Allora ho un messaggio da dare a tutte le comunità, veramente. Il Signore mi ha dato questo sogno, questo messaggio in sogno. Praticamente erano due persone bianche, due esseri bianchi vestiti di bianco, erano sulla tavola e stavano scartando le olive. Quelle verde, belle, lisce venivano messe da parte per essere lavorate poi successivamente, mentre molte altre, mature, belle, venivano scartate. E un'altra persona lì diceva a questi due, a questi signori che stavano scartando le olive, diceva ma perché le scartate? Sono anche buone queste. Vede, non si possono utilizzare in un altro modo. E l'altro signore lo guardò e fece un cenno che non si potevano più utilizzare. Ora, metto, voglio farvi partecipare di questo messaggio affinché anche chi ascolta Radio Basta ne sia partecipato. Un abbraccio in Cristo Gesù, Dio vi benedica. Grazie Rosario, Dio ti benedica, è interessante questo. Parlando di olive, che sappiamo è anche una cosa biblica, vogliamo capire cosa significa questo sogno, dove due persone vestite di bianco, che ti fa pensare agli angeli, separano alcune olive belle, lisce, verdi, le mette da parte per essere lavorate, e altre olive belle, mature, vengono scartate. E perché? Perché non vengono lavorate tutte quelle che sono belle e mature. Cosa pensi? Tu cosa significa? Perché anche se nel sogno una persona chiede perché scartate queste che sono buone, la risposta non è data. Viene solo detto no, non sono buone. Tu cosa pensi? Ma evidentemente i due vestiti di bianco sono angeli di Dio. Il bianco rappresenta il colore di Dio. Sì. E allora olive, diciamo tutte belle, però alcune vengono raccolte, altre vengono scartate. Quelle scartate sono, diciamo, i cristiani che potrebbero portare frutto, ma non lo portano. E Dio gli dice, io non vi conosco. Potevate portare olio, non l'avete portato, vi scarterò. Questa è praticamente, sembra essere la laudicea questa, le chiese di oggi che sono sperduti nelle tempeste delle false dottrine. Leggono un libro americano, allora lo prendono per verità. Leggono un altro libro, ecco che cambiano la verità. Leggono un altro libro, ecco un'alternativa verità. e non sono solidificati sulla pietra Gesù Cristo. Non sono solidi, piazzati, fermi sulla pietra, sull'ancora, sulla pietra sicura che è la parola. Basano la fede sull'interpretazione di uno che scrive un libro, che prende una scrittura e la interpreta al suo modo. Poi arriva un altro, la riinterpreta e allora quella diventa la successiva verità. Poi leggo un altro libro, la scrittura viene ri-ri-interpretata ed ecco che questa diventa la verità del momento. Invece io ho imparato, quando ho cominciato a seguire il Signore, 48 anni fa, che quando una cosa sono sicuro di vedere il Signore, non cambiarla mai. Infatti, sono quasi 50 anni che predico le stesse cose. Va bene, quando ho scoperto la verità, quando scoprivo una verità, ci mettevo la mia vita su quella, ero pronto a morire per questo. E questo ti fa crescere, questo voglio dire quando sei sicuro che una cosa è vera. E allora sei un albero di olive, un'oliva o un ramuscello di olive, che porta olio, porta frutto. La Bibbia parla anche di queste olive. Quindi le olive rappresentano i cristiani? Logica. Tutte le olive sono verdi, belle, lisce, però alcune vengono lavorate per produrre olio? Sì. E le altre, anche se potrebbero essere lavorate, vengono buttate perché non hanno olio, non danno niente? Danno niente. Noi veniamo lavorati attraverso le tribolazioni, le intemperie, le prove. Leggi Primo Pietro 1,7. Primo Pietro 1,7. Affinché la vostra fede, che viene messa alla prova, che è ben più preziosa dell'oro che perisce, e tuttavia è provato con il fuoco, sia motivo di lode, di gloria e di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo. Primo Pietro 1,7. Ecco, quindi, questa qui è la lavorazione che il Signore sta facendo. Quindi noi siamo, cioè quelli di noi che sono fedeli e che portano frutto, Dio lo sa, speriamo di essere tra quelli, vengono lavorati da Dio. E come il Regno dei Cieli è come una rete che prende pesce, alcuni buoni e alcuni cattivi, i cattivi li ributta a mare, i buoni li tiene. Il Regno dei Cieli è come il buon seme e la zizzania, vengono separati in facci diversi. Va bene. E quindi le olive nella Bibbia, vediamo in Apocalisse 11,4, ci sono due olivi e i due candelabri che sono davanti al Signore, davanti a Dio. Va bene. Sì. Vuoi leggerlo? Apocalisse 11,4, l'ho aperto qui. Questi sono i due olivi e i due candelabri che stanno davanti al Signore della Terra. Ecco, quindi in questo caso, queste olive rappresentano i due testimoni di Apocalisse 11 che profetizzeranno per tre anni e mezzo contro l'Anticristo. Va bene. Cioè, come facciamo noi in piccolo? In piccolo stiamo facendo anche noi e altri fratelli come noi, meglio di noi, stiamo profetizzando contro i diavoli, contro i falsi capi delle chiese, contro le false dottrine delle chiese. Stiamo profetizzando contro queste bugie. E va bene. Questi due sono i due, diciamo, i capi dei 144.000, li vedo io, che guideranno la Chiesa mondiale che sarà perseguitata dall'Anticristo. Lo vediamo in Apocalisse 11, 12, 13, Matteo 24, la Chiesa mondiale, che viene perseguitata, i figli di Dio vengono uccisi. Sì, ci sono 144.000 per guidare una Chiesa, una Chiesa sparsa in tutto il mondo, disorientata, quando i loro falsi pastori avranno preso marchio dalla bestia o saranno stati uccisi o saranno nascondisi nelle caverne. Ci saranno 144.000 guide che guideranno la Chiesa mondiale. Quando i presenti pastori fuori binario che li stanno guidando agli edifici fatti di cemento invece di guidarli alla volontà di Dio per raggiungere le pecorelle, li guidano alle panche a sedersi, a fare niente. Ecco, quando questi pastori saranno spariti perché il Signore li farà sparire, quasi tutti, tranne quelli che si pentono e che cominciano a fare come Gesù e gli Apostoli a guidare la Chiesa per la via giusta e molti di loro prenderanno marchio dalla bestia così come oggi guidano a prendere le siringate. Prenderanno marchio dalla bestia perché marchio dalla bestia non sarà presentato come il marchio che ti porta all'inferno, sarà presentato come la soluzione perfetta per risolvere tutti i problemi e questi diavoletti attraversiti da pastori diranno niente di male, ricevete marchio dalla bestia. Come già ce n'è qualcuno. Ce n'è qualcuno che già, abbiamo anche il video di questo americano che dice prendete marchio dalla bestia tranquillamente e poi vi pentite. Lui è un pazzo e uno stolto. Prima in Apocalisse 9 e Apocalisse 16 dice che chi diceva il marchio invece maledirà Dio, non si pentirà. Quindi questi sono falsi profeti. Grandi insegnanti, eh? Quindi, vabbè, chiusa questa parentesi. Quindi queste sono le olive. Quindi possiamo dire che il sogno di Rosario va a mano in mano con Matteo 25, la parabola delle dieci vergini, cinque con olio, cinque senza? Sì, sì, è una, è un perfetto, è nello stesso ambito, è nello stesso paragrafo che le cinque vergini buone, con l'olio di olive buone, vengono ricevute nella camera nuziale sposa di Cristo. Le cinque vergine senza olio sono le olive che, che vengono scartate. Io, in questo sogno profetico, visione è un sogno. Sogno. Un sogno. Questo sogno profetico, Rosario ha visto che venivano scartate. Olive buone. Quindi le vergine erano vergini, vabbè, non erano prostitute spirituali come certe chiese, no? Erano vergine, proprio salvate, tutto a posto, però scartate dalla camera nuziale non diventano sposa di Cristo perché non avevano olio nelle lampade. Ora, l'olio rappresenta la fede, il ubbidire comandamenti, seguire Cristo, mettere in pratica la parola, convertire le anime perdute, seguire il Signore. Questo è l'olio. L'olio non è neanche quello che vende al supermercato. È un olio spirituale. È un olio che ti dà, ti dà l'entrata alla camera nuziale come sposa di Cristo. Quindi, attenzione a non presentarsi davanti al tribunale di 2 Corinthians 5,10, secondo Corinthians 5,10 e non presentarsi davanti al tribunale di Cristo, va bene, e senza olio perché hai perso il matrimonio con Cristo. Non devi essere perfetto, non devi essere in gamba, non devi essere grande, non devi avere una radio, non devi... niente. È sufficiente che dà a Gesù tutto il cuore, sufficiente che lo metti prima della tua bicicletta, la tua macchina, i tuoi soldi, la tua casa, a tuo marito, a tua moglie. Va bene? Amen, sì. Prima viene Gesù. Grazie, Signore. Il Signore, lo sposo. Se nel tuo cuore tu sei vergine così, sei fedele così, vergine spirituale, attenzione, se sei così nel tuo cuore, tu sei la sposa di Cristo, è il massimo che capisco io. Non c'è niente di più che amare il Signore con tutto il tuo cuore, anima e forza e spirito. Cosa c'è di più? Ha fatto quello che ha potuto, ha lasciatela in pace, ha messo a spazio profumo sui miei piedi, me li lava con le lacrime, le asciughe i suoi cappelli, lasciatela in pace. Ha fatto quello che ha potuto, ovunque questo Vangelo sarà predicato, predicheranno anche di lei. Ha fatto quello che ha potuto, branco di farisei, i mormoroni. Va bene? Gesù ha detto così Gesù. Cioè dico io, aggiusto un po', no? Sì, sì. Insomma. Non è che mi ricordo ogni parola, però ti do, quindi quanti fratelli, quante sorelle. Va bene? Io mi ricordo, mi ricordo Francesca che ci ha scritto oggi, Francesca, ha detto volevo non seringarmi. Io ho detto di no e faccio il tampone. Ecco, è così. Perché lei vuole andare in scuola, lei predica il Vangelo, insegna la religione, ma la religione è degli anatroccoli, dei paciamamo. Scusa. No. Il Vangelo è una sorella, questa qui, la conosco da anni, io so che a lei è in riga, è in linea con il vero Vangelo, lo so, la conosco benissimo. Lei ha detto prenderò i tamponi e li pago e tutto finché posso. Quando non potrò più, io la seringata non la prendo. Ecco, sì. Sì, sì, sì. Ecco. E allora, vedi, fratelli così sono dei nostri. Amen. Se ti serve qualunque cosa, Francesca, siamo qui per te e per quelli come te. D'accordo? Amen. Se ti sposti qua e là, pronti a consigliarti, va bene, consigliarti in tutto quello che possiamo, se ti servono zone, se ti servono per notare una capanna, Angela, e la pronta per notartela. Sì. Certo, vado a visitarla con amore. E porta anche qualche cassetta di cibo quando la vai a visitare. Ok. No problem. E dare una mano a questi fratelli se il Signore ti mostra. Il Signore sta mostrando apparecchi di spostarsi, che c'è uno scritto, gloria a Dio. Grazie. Grazie. Grazie a tutti